Allora stamattina siamo a Bologna al Cosmo Prof, è la più grande caremes della Cosmesi, delle aziende che operano in questo settore, un'eccellenza straordinaria per l'Italia, pensate che il 60% dei cosmetici che vengono consumati in Europa sono prodotti in Italia, anche se poi voi magari leggerete dei marchi francesi o stranieri. All'interno di questa manifestazione ci sono sempre delle iniziative di solidarietà, in quest'anno me ne voglio presentare una straordinaria, c'è qui la signora Anna, la signora Anna è la presidente di questa associazione, si chiama La Forza e il Sorriso, e loro fanno un'iniziativa di beneficenza per le donne malate di tumore, grazie a delle aziende che insomma danno una mano, donano dei prodotti, e grazie al sostegno delle persone che qui vogliono dare una mano, è possibile regalare dei kit a queste donne malate di tumore e fare con loro dei laboratori perché queste persone possano, diciamo così, avere un momento per loro. riscoprire la loro bellezza, la loro forza d'animo e quindi io adesso chiedo alla signora Anna di dirci qualcosa di più, però è un'occasione perché sul sito www.laforzainsorriso.it tutto l'anno potete dare una mano a questa bella iniziativa. Certo, potete trovare tutte le informazioni proprio sul sito www.laforzainsorriso.it ma in breve noi ci occupiamo di organizzare questi laboratori di bellezza per le donne che affrontano un cancro in 57 enti in tutta Italia. In questa maniera abbiamo un momento di leggerezza, un momento di relax, le donne che stanno attraversando, un momento terribile, e possiamo far ritrovare se stesse perché in tanti casi appunto quando la malattia non ci si riconosce più a uno specchio e con i trucchi sono delle piccole armi appunto per aiutare tutti i miei amici. Se volete dare una mano! Grazie!